musica ok ragazzi siamo al sesto episodio e mi ha chiesto delle ossa non so cos'hai in mente di fare spera soltanto prega soltanto cosa ci sono tre lupi quattro lupi qui uno è nostro vieni qua tieni 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 purtroppo deve avere fortuna comunque ho tre spicy questo? no no questo qui c'è il mio uno di questi questo vado bene guarda che tre cani fanno tanto sì perché comunque se ti attaccano i cani incominci ad attaccare anche gli altri vedi sì 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 e quindi anche se tu muori puoi anche uccidere qualcun altro allora adesso io mi crafterei le frecce con tutto quello che abbiamo ok io ho 36 frecce se facciamo la selce oh ne posso fare un altro botto raga abbiamo i cani abbiamo le cose top ma non riusciremo mai occhio che cadono giù dentro lì le cani ok un altro di selce io qua ne ho altra te la piazzo ok mi raccomando non ci picchiamo adesso perché se no siamo fregati perché? eh i cani ci attaccano a vicenda poi vedi ah no no sì 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 certo e pesa secondo me ci puoi andare al centro e scendere lì sì anche perché sto andando la barriera non so a sinistra puoi iniziare a muoverci ok allora andiamo togliamo tutto lo facciamo dopo la selce tolgo l'enchanting esatto tolgo questa allora adesso guardiamo le coordinate e vediamo dove dovevo andare eh sempre verso allora questo è il centro però guarda che siamo già più o meno al centro devo andare di qua guarda siamo a 77 questo è il centro Eme ah e allora basta già siamo al centro no siamo a 300 blocchi dal centro di qua quindi se andiamo un po' su di qua al di là di queste montagne ci deve essere il vero centro spero ok eh cibo ok ce l'ho guarda che i cani possono essere una piccola svolta vedi eh spero sì perché comunque ti fanno sia la distrazione per il nemico e sia la protezione per te sicuramente però comunque guarda andiamo al centro scaviamo e cerchiamo oro è fine scendo con l'acqua io c'ho una paura cane stupido che mangia cane stupido no non mi fate oddio ma se li faccio accoppiare è certo che li state facciate accoppiare e ne fanno il cagnolino boh ma è accoppiato e vi fateci un altro cagnolino che è top un altro sì il tempo che fa così cresce dai aspetta mi sembra di vedere no vedo dei nick vedo dei nick vedo tizio 20 dove 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 dimmi dove l'ho visto l'ho vista venendo qua io non c'ho più non c'ho niente non c'ho niente mi fa fuori con una squadata allontaniamoci 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 di qua 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 di tizio 20 tierless siamo in due cuori noi aspetta aspetta guarda che ci inseguono secondo me una frecciata e sono morto io vieni di qua vieni di qua ci sei dietro di me sì 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 allora dobbiamo infilarci in qualche caverna qua c'è una caverna qua c'è una caverna vai entriamo vai forza rimani shiftato rimani cammina shiftato per favore ok cominciamo a scavare ci avranno visto? sì tizio sì che ci ha visto quante spice hai? tre ok una dovrei prenderla almeno una per avere un minimo di possibilità mi scomparso un cane io guarda controllo sopra per vedere un pochettino oro zero ne abbiamo eh sì no io ho tre ne ho tre ne ho tre di oro quindi quattro oro potremmo farci un'altra spicy sarà una spicy finale ho trovato del carbone che me ne faccio nulla però mi anzi in realtà sì devo deciftarmi eh a che altezza siamo? siamo a altezza ventisette è qua il ferro per forza e c'è l'oro bisogna trovarlo dai non ditemi che non è ultra hardcore magari non la vinceremo però dobbiamo resistere il più possibile madonna sì eh ma incredibilmente non abbiamo beccato oro dai no è veramente è stata una sfortuna abbiamo trovato un botto di diamanti ma niente oro oro bene bene uno due tre quattro cinque sei sette otto otto ori ok facciamo instant una crafting sì io potrei inchantarmi qualcos'altro fare un protezione spesso spesso mi fai paura con quella cosa lì stammi lontano ti prego vada vieni qua ti droppo l'oro piglio ok e qua altri cinque e tienilo spicy non ci posso credere vado a farmi tutto ragazzi secondo spicy da prendere instant vai almeno non vedo tremare i cuori almeno quello sì ricordiamoci i cani all'ingresso oh oro oro che culo uno due tre quattro e cinque ok altro spicy ok no ce l'abbiamo 8 prima morte metano non si smentisce metano si posso farmi un altro spicy chi lo prende quanti quali hai tu siamo pari però io è ok però io ne ho due meno di te adesso perché ne ho quattro ti dispiace se lo prendo io facciamo sei pari va bene perché adesso ne ho sei ma perché ho la saturazione però ti conviene prenderlo dopo quando ci sono i nemici sì perché almeno ce l'hai oro 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 ancora bene 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 oro ancora raga stiamo recuperando oro oro tanto non tantissimo ma tanto un po' adesso te lo dico possiamo fare altre frecce dopo eh quattro quattro abbiamo i cani abbiamo l'oro abbiamo le cose inchantate in diamanti allora io adesso però farei una cosa Allora metterei a smeltare se permetti non occhio del ferro tieni gold ah ne ho sette di oro quindi con un oro ci facciamo un altro spicy eh cerchiamolo dare ma già che ci siamo scaviamo a casa ma ce l'hai lo spicy tu da fare sì un altro sì ok quindi sarebbe uno per te uno per me perfetto ok allora no volevo dire che io volevo smeltare un altro po' di ferro perché se mi riesco a fare un altro eh tipo piedini o elmetto con protection faccio protection 2 eh ma io il ferro ce l'ho ne ho tanto ne ho 40 ah mettilo buttalo dentro nella fornaccia allora no no ma già fatto ah già fatto io aspetta stavo smeltando ok allora mi piazzo giù ancora l'enchanting tieni qua a metà tieni dentro droppato ok ti metto qua l'incudine ok perfetto stop allora io mi faccio eh la crafting qua mi faccio eh un altro elmetto però quello aspetta era sì però potrei farcela sì lo elmetto qua e lo enchanto con protection 1 top prova a fare un altro protection di questi unbreaking vaffanbrodo protection 1 con sì due livelli ne ho 8 perfetto ok non c'ho abbastanza esperienza per farlo io sì elmetto protection 2 top adesso dovrei fare un altro leggings ma non ho abbastanza livelli andiamo a scavare ora ho trovato top 1 2 3 4 5 6 7 e 8 basta non facciamo più scavi e ci dobbiamo trovare adesso una posizione buona cuocio del pollo che non ho più cibo io eh però aspetta devo mettere a cucinare qua sì sì metti tutto a cucinare e ti fai l'ultimo spicy allora io uscirò con 6 più 2 8 cuori e tu forse un po' di più sì anch'io 6 più 2 ok perfetto quindi siamo pari possiamo giocarcela forse un pochino allora io ho i 7 gold qua tieni te li do top ok mi cuocio un po' di chibus anzi guarda questo che c'è a posto allora hai qua la selce in giro selce no l'abbiamo buttata qua dentro però aspetta ok gravel vabbè ma 26 frecce ma vale utilizzare no 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 non bastano non bastano bisogna sarà una l'ultima volta è stata una lotta di frecce infinita la selce qua potevo farmela anche in diamante guarda volendo oh mastro picca sta facendo stragi eh eh ma posso dire che chinappano dici eh certo si prendono tutte le cose degli altri eh lo so dai gg ho 42 frecce ne vuoi un po' ancora io ne ho 26 me ne vuoi dare una decina te ne ho altri nove sito tieni che palla volevo trovare un altro di oro uno di oro almeno così già ce l'avevamo pronta nel caso di un altro di un altro spicy eh ma non non stare lì tanto adesso dobbiamo uscire no eh si si va bene infatti non ormai arrivo che palla si è mostrato un pochino male vabbè fai nulla fai nulla fai nulla comunque ce la siamo cioè per come siamo andati avanti abbiamo avuto fortuna alla fine eh si allora ti togli Iron Languels ma Ige ce l'ho un paio di allora io un paio di pantaloncini con protection 1 anch'io però volevo fare un protection 2 però se io li unisco tu hai quanti livelli hai tre e mezzo ok allora incianta questi pantaloncini e guarda se c'è protection e poi dobbiamo uscire ragazzi ci vediamo per la battaglia finale yeee yeee grazie a tutti grazie a tutti Grazie.